Voleva essere una bella ragazza, ovviamente non era tanto bella. Stesa su quel tavolo, con quella luce squallida, delle lampadine a basso consumo, posso stare un momento da sola? Una delle cose più confortanti nell'avere figli è quella di sapere che la propria bellezza non svanirà, ma verrà tramandata ad una nuova generazione. Si dice che quando muore un genitore il figlio percepisca il senso della propria mortalità, ma quando muore un figlio è l'immortalità che il genitore perde. Guarda come sei bella tesoro, la mia bella bellissima bambina.